Let's go, bitches! Una piccola intro al video ho voluto fare, quindi una cosa un po' differente dal solito Cercherò di farne di più di queste intro perché le trovo molto divertenti e carine Ma quello di cui voglio parlarvi è... Vi chiedo di spolliciare questo video, di cercare di farla arrivare almeno a 1250 like Perché questo? Perché... Io YouTube per me non è un guadagno, vi dico la verità Cioè non ho paura a farvi vedere quanto guadagno mensilmente con YouTube E quello che mi piace di YouTube sono i vostri like e sono i vostri commenti E i like mi fanno capire che il video è piaciuto tantissimo Quindi se raggiungiamo 1250 like prometto di fare presto un altro episodio di Power Personal Trainer Io vi saluto, bitches, vi do il via al video Questo è un video molto interessante perché speculo su alcuni accessori Quindi passiamo subito al video, let's go! Let's go, bitches! Benvenuti a questo super video particolare in questo caso perché non è una serie, non è niente Ma sono dei miei consigli, delle cose che vi voglio dire Per prima cosa è indietro che usate FMJ su Safeguard, su Salvaguardia o su AppLink Perché chiederete? Perché FMJ è stato patchato Quindi non fa più danno aumentato al robot di Safeguard E allo stesso modo non penetra più l'armatura del drone carrier Di chi porta il satellite, la palla, come la volete chiamare, il drone, eccetera, eccetera Quindi è diventato particolarmente inutile per queste cose È solamente utile per i Wallbang ora Comunque passiamo subito a quello che è il titolo del video Come vi stavo dicendo, vi voglio, vi sto consigliando di provare a usare calcio sull'M8 Perché sull'M8? Diciamo sull'M8 ma anche su Alt-R in generale Perché ho notato che quando non sono host o comunque sto giocando su un host straniero Il mio M8 fa fatica a registrare tutti e quattro i colpi della raffica Cioè anche se sparo la raffica è da quattro Mi pare che registra il gioco solamente tre colpi Anche se cerco di essere il più preciso possibile One bombare diventa veramente raro per me Non so se è un mio problema di connessione E vedendo gli streaming di persone famose come Karma Come comunque Parasite, eccetera, eccetera Ho sentito molti di loro parlare del fatto di usare calcio Cioè il calcio anteriore, quello che riduce il rinculo dell'arma E niente, quindi il mio consiglio è provate ad usare calcio E ditemi come vi trovate Se veramente ha un effetto o comunque fa qualcosa a livello di gameplay Perché io attualmente ho notato che quando utilizzo calcio sotto l'arma Veramente il mio M8 mi pare di essere più preciso E non solo essere più preciso ma anche che i proiettili si registrino molto meglio sul corpo della persona O comunque del giocatore che ha a cui sto sparando Quindi il mio consiglio è provate a mettere il calcio sull'M8 E fatemi sapere come va Allo stesso modo fate la stessa cosa su un'arma come lo scevo o un XR2 Fatemi sapere come va Ditemi se funziona questa cosa Perché ovviamente la sto chiedendo a voi Non ne sono sicuro Questa è una mia sensazione che sto avendo Potrebbe essere un effetto placebo o come no Quindi ovviamente se venite qui sotto a commentare Spero di rivedervi una seconda volta dopo che l'avrete provato Allo stesso modo vi voglio parlare del WMP Che è uno degli SMG preferiti o comunque che si vedono di più Nell'interno delle partite competitive Secondo me è uno dei più forti Per il fatto che ha 40 colpi ha un radio di fuoco altissimo Io come vedete lo utilizzo solo con estrazione rapida e cana lunga Perché questo? Perché quando utilizzo il calcio su quest'arma Mi pare che controllare il rinculo di quest'arma Diventi molto più difficile Come sapete quest'arma spara praticamente in diagonale verso destra E quindi bisogna concentrare il vostro Diciamo a mantenere il rinculo verso in basso a sinistra Ma giocato senza diciamo calcio Mi pare che quando riesco a mandare i primi colpi su un avversario Poi riesco a seguirlo molto più facilmente E il rinculo verso in alto a destra viene un po' ridotto Quindi il mio consiglio è provate anche questo E se venite qui sotto a commentare con qualcosa Fatemi sapere come vi trovate utilizzando il WMP senza calcio È solamente estrazione rapida e cana lunga E ragazzi siamo arrivati alla fine del video Questo video era molto breve Spero vi sia piaciuto questo consiglio sugli accessori Magari potrebbe diventare anche una piccola e breve serie In cui posso dare qualche tip, qualche info su come fare diciamo Come posso spiegare, una classe O comunque se utilizzare un attachment invece di un altro Perché se calcio è veramente così effettivo Potrei veramente sostituirlo a cana lunga Anche se mi consente di avere più probabilità di one bombare O diciamo tirare due burst a una persona Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video Let's go!